Buongiorno Claudio, un ricordo di Carletto Mazzone? Che vi devo dire, grandissimo romanista, grande uomo di calcio, un ricordo emozionante, positivo, mi viene da sorridere se penso a Carletto Mazzone. Qualche aneddoto? Non ne ho, non mi fece entrare a Tricorio una volta e volevo andare a saluto a Totti, cacciatevi via Stattori, c'era ragione. Questa è Roma? Questa è Roma, voglio dire. Grazie. Un ricordo di Carlo Mazzone? Eh ragazzi, questa è una cosa tristissima, mi dispiace, ho detto ieri che per me era il migliore perché era bravo come padre, come allenatore e come stratega, mi dispiace molto. Grazie. Grazie.